Tutto bene, tutto bene. Vuoi una figliaccia? Molto da passo. Enza, c'è tua madre al telefono? Ah, tirano tante water resistance. Ah, ma che t'hanno trovato? Tracce di calcoli? Eh, vabbè, ma quella è l'arenella, ma... Poi? Tracce di muco? No, basta, c'è un limitato. Ma che colore è? Che abbiamo fatto? Che abbiamo detto? Vabbè, ma ci parlo io, dai, su, che te non ce capisci niente. Amore, assegnate un po' sto numero. Dimmi. Dottor Tagliagani? Taglia? Tagliagani, 06. E' un attimo che tagliagani con il T9 non mi ce va. Aspetta. 06-64-22-17. 22? 17! Scusi, non è possibile. Guardi che confusione, ma è assurdo, è inconcepibile. Ciao, te lo rilancio. Enza? Eh? Ma che ti sei lavato la cannafta? Perché? Sembra che ci sia passato pescherescia, non ho capito io. E' l'olio abbronzante. Ma andai a aprirsi al distributore. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS.